Grazie, Presidente. Noi del Movimento 5 Stelle siamo sempre più sconvolti dalle scelte che i nostri colleghi deputati degli altri partiti compiono ogni volta che ci ritroviamo in quest'Aula a votare provvedimenti che toccano i loro privilegi. Siamo sconvolti perché ci rendiamo conto che non capiscono minimamente che i rubinetti si stanno chiudendo anche per loro, che la pacchia è davvero finita. E allora perché non fare un ultimo gesto e dimostrare, anche se non esiste, il disinteresse verso il vile denaro che no, non ve la darà la felicità? Abolite il finanziamento ai partiti oggi stesso, se avete il coraggio, e destinate quei soldi, ad esempio, a pagare le ferie ai 130.000 precari della scuola che avete privato di ogni dignità. Grazie.